Nuovo turno casalingo per un Celano che cerca di ingranare la marcia giusta, magari proprio in uno scontro diretto. Con il fattore campo dalla sua ma orfano del faro mercogliano davanti, parta l'assalto di un Montorio affatto timido, tanto che già al terzo mette la freccia. Fracassi, ricorda vagamente Maradona, quando dribbla tutta la difesa castellana per poi depositare in fondo al sacco. 1-0 e tracce celanesi molto in là da venire perché la seconda azione è sempre di marca ospite e arriva al ventesimo quando Ridolfi gioca di volo ma poi si perde in una conclusione telefonata. Ventiduesimo, il Celano si desta e segna. Percussione centrale di scatena, respinge di Giuseppe a corre di Virgilio che non perdona. 1-1 e bianco-azzurri ora espirati al bis dopo pochi secondi quando però i centimetri sono nemici dei locali. Fuori gioco e si riparte con varie fasi un po' confuse. Nelle immagini un chiaro esempio di fuoco amico a centrocampo. Al trentasettesimo poi Ranieri è troppo molle nella conclusione sottoporta, comunque imprecisa. Negli sfogliatoi sull'1-1 è il ripresa che inizia con il botto quando Carrato pennella dal ciuffo più verde e porta avanti i suoi. Dieci minuti più tardi però arriva la doccia gelata per i Castellani perché fracassi al piede caldo e concede un bis di livello con un classico Euro-goal dalla distanza. 2-2 e secondo tempo che si presenta come elettrizzante ma in realtà poi deluderà le aspettative. Dobbiamo infatti arrivare al quarantaduesimo per vedere una conclusione verso la porta ma è ben alta sopra la trasversale e porta la firma di Gizzi. È l'ultima recita di uno spettacolo comunque abbastanza degno ma che al tirar delle somme non toglie dai guai nessuna delle due compagini. Felice fidanza, dicevamo nel fuorionda un blocco psicologico, solo sfortuna, questa vittoria non vuole arrivare. In effetti è così, non riusciamo a portare a casa questi tre punti. Non voglio né pensare al blocco psicologico né alla sfortuna. Il calcio è così, noi dobbiamo solo pensare che prima o poi arriva, ci dobbiamo credere e non dobbiamo cercare alibi nel senso come ho detto il blocco psicologico oppure la sfortuna. Dobbiamo secondo me crederci un po' di più, oggi addirittura siamo riusciti a ribaltare la partita, quindi secondo me dobbiamo metterci un po' più di rettiveria, cosa che non c'è stata, soprattutto nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e non siamo riusciti a uscire più in maniera sufficiente. Quindi non credo sia un blocco. In questo periodo ci gira così, purtroppo il calcio è fatto episodi, dobbiamo cercare solo di non pensare che oddio non vinciamo più, dobbiamo solo pensare a lavorare e cercare di fare meglio partita dopo partita. Mister De Amicis, un pareggio in trasferta è sempre buono per una squadra che si è caratterizzata per essere casalinga, come dicono. Sì, sì, il primo punto fuori casa finalmente, ma sono contento anche della prestazione della squadra perché comunque giocare su questo campo, secondo me, anche contro una squadra che secondo me non merita questo tipo di classifica, quindi è un punto che accettiamo volentieri. E poi ripeto, sono molto contento della prestazione perché ci abbiamo provato fino alla fine, noi abbiamo provato a giocare fino alla fine, a cercare di vincerla fino alla fine, anche fisicamente abbiamo retto benissimo, per cui togliere quei dieci minuti in cui abbiamo preso il primo gol, in cui veramente abbiamo perso un pochettino la testa, le distanze soprattutto, centrocampo, linea di difesa, e l'avversario ha potuto fare 40 metri di palla al piede, proprio il resto la squadra ha fatto veramente una buona prestazione, e ripeto, il fatto che ci abbiamo provato fino alla fine a vincerla è un buon segnale. Grazie.